Soccorse due persone in montagna del nucleo elicotteri del Piemonte, due escursioniste avevano perso l'orientamento e dopo essere state geolocalizzate sono state recuperate a bordo con l'uso del vericello e portate in zona sicura. È accaduto nella giornata di lunedì 8 maggio a Cantoera nelle varie di Lanzo poco prima delle 18. Le due donne stanno bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti.